Procida passa il testimone di Capitale Italiana della Cultura alle città di Bergamo e Brescia, con la cerimonia al Teatro di Corte di Palazzo Reale di Napoli e alla presenza del Ministro San Giuliano e dei sindaci delle due città lombarde, Giorgio Gori ed Emilio Del Bono. Riecheggia dunque ancora una volta il motto La Cultura Non Isola, insieme con i numeri e il bilancio del programma culturale. Un bilancio molto positivo, è stato un anno importante con la cultura al centro, non solo per un'isola significativa come Procida, ma per tutta l'area metropolitana che vede proprio negli eventi culturali, nella valorizzazione della creatività e del talento, uno dei suoi asset fondamentali di questa grande rinascita e di questa grande capacità di attrazione. Un'esperienza significativa di cui noi faremo tesoro proprio per migliorare l'offerta e la competitività dei nostri territori. Se a Napoli sono arrivati milioni di turisti è anche perché c'è stato il contributo che ha dato Procida e quindi dobbiamo far tesoro di questa esperienza.